I motivi di questa fiaccolata nascono da una riflessione fatta all'interno della Commissione alle pari opportunità all'indomani del femminicidio di Sara, perché ci aspettavamo che subito dopo il femminicidio le istituzioni, le ministre, perché ce ne sono tante in questo governo, dessero una risposta forte. Ma questa risposta non è arrivata, salvo che per l'esposizione del drappo rosso da parte della Boldrini e di una piccola intervista rilasciata dalla ministra alle pari opportunità. È stato oggetto di riflessione all'interno della Commissione e abbiamo pensato di dare una dimostrazione alla città di Catanzaro per coinvolgere un po' tutti gli ambienti, tutti i settori e dimostrare che comunque la città di Catanzaro è sensibile dinanzi ai problemi che riguardano il femminicidio e le violenze di genere. Sebbene nella città episodi eclatanti di femminicidio non se ne siano verificati, sia un po' per il lavoro che faccio, sia per le attività di volontariato che svolgo da tanti anni, sono a conoscenza in realtà dell'esistenza all'interno delle famiglie di tante situazioni che restano celate proprio all'interno delle mura domestiche. Quindi la fiaccolata del 6 luglio vuole essere un input alla denuncia, vuole essere un input alle istituzioni di intervenire, di andare in aiuto con la realizzazione di strutture idonee, anche la realizzazione di un centro per gli uomini che sono violenti all'interno delle famiglie. E diciamo che poi anche la continuazione dell'attività intrapresa sin dal suo insediamento della Commissione alle pari opportunità, che sin da subito ha appoggiato le iniziative per il 25 novembre di Astarte Donne e di Mondorosa, che ha portato avanti anche un progetto di educazione alle emozioni all'interno degli istituti scolastici della città. Perché effettivamente vogliamo mettere in evidenza il fatto che il problema del femminicidio, della violenza all'interno delle famiglie, delle mura domestiche, è un problema culturale, è un retaggio che probabilmente la società si porta dietro da tempi antichi e che vorremmo abbattere, vorremmo cercare di abbattere in qualche modo. L'amministrazione comunale ha inteso innanzitutto costituire e stabilizzare questa Commissione comunale alle pari opportunità. Ritengo una cosa importante, votata all'unanimità dal Consiglio comunale, perché è un segnale forte che si deve dare alla città. La Commissione sta lavorando molto bene a 360 gradi, perché pari opportunità significa tantissimo, significa il femminicidio, significa pari opportunità non solo sulla violenza, ma significa pari opportunità nel vivere quotidiano, pari opportunità per i disabili, pari opportunità per le persone in difficoltà che sono in questa società sempre di più. Quindi questa fiaccolata vuole, e questo è anche il merito della Commissione, unire più voci ed unire più associazioni su tanti temi. Io chiedo come amministratore un impegno corale di questa città, perché se diamo l'idea che la città si mobilita anche nel sociale, è una spinta in più per fare meglio e per fare sentire questa gente non sola. Ci sono momenti di difficoltà oggettivi, momenti in cui i centri antiviolenza stanno subendo dei momenti di fermo, perché la necessità di interfacciarsi sempre di più con la Regione, siamo credo anche in un momento di transito. La Regione ha in animo di applicare la legge 23, quindi trasferire le competenze sulle strutture socioassistenziali ai comuni e questo passaggio che è necessario, va fatto, perché in tutte le altre Regioni è stata già applicata, deve trovare però dei tempi e delle modalità, perché queste strutture già in sofferenza non abbiano ancora a soffrire sia gli operatori che lavorano con grande dedizione, spesso fanno del volontariato, di grandissimo livello, ma sia soprattutto le persone che vengono ospitate.